e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono io il vostro freppeggiore un microfono in bocca scusate sono io il vostro freppeggiore e oggi siamo non in un episodio di evolution of console ma precisamente in happy wheels ora vedrete così ma ora la grafica è mille volte meglio 123 la grafica eccellente bene ragazzi lo vedete che questa webcam si vede un po di merda però vi spiego subito il perché perché questa è una microsoft vecchia che purtroppo non è nemmeno hd però visto che io dovrei avere avuto un regalo di promozione almeno due mesi fa sono promosso con sette cazzo succede no è tutto strano è questo livello è dato che sono bene in questo anno mio padre mi ha voluto premare mi ha voluto premiare e quindi avrò molti legali tra cui uno di questi è la telecamera hd samsung con il cavalletto la nuova webcam hd con la messa a fuoco ok ora facciamo quelli la i browser l'evas facciamo something something cazzo o mio dio mamma ma che morte atroce mille volte per morire tanta rama palutendec proviamo questo che questo sembra più bello come personaggio potremmo mettere eddy va che è il mio preferito dopo tanto tempo ce l'abbiamo fatto facciamo il record 213 il massimo che si può 27 più bello ci mettiamo il trilocco a 243 no ho perso tempo per secondi e 7 vabbè non fa niente ora facciamo medio difficile medio difficile ci prendiamo nonno ciak perché è bello vedere vecchi che fanno le cadute che prendono le le cadute dipendiamo in giro per la loro età dai perché finché siamo giovani è meglio così poi diciamo che sono ancora bambino no 13 anni quasi vabbè tra cinque mesi sei mesi che devo fare 14 quindi stiamo stanno la però ne ho 13 facciamo questo qui mario mi piace molto a mio mario brosso quindi la proveremo ecco qua ci assomiglia però è troppa forza di gravità non mi sono rotto una gamba ed ho vinto veramente questo è questo video e ho preso tutti i livelli facilissimi superman si è schiattato nel cesso e ha vinto ragazzi cinque secondi e zero zero sono stato precisissimo però io per curiosità vorrei sapere che se secondo voi è meglio pes 13 o è più is è un sottaggio facciamo goodbye segue guy ok addio segue non mi ricordo che cosa vuol dire guy maschio bene ora ci proveremo cazzo quanto mi ha fatto volare peggio di dell'andia e il toro loco bam e ho vinto anche questa io non sono più che fiero questo è jack septic e i true x2 cazzo in inglese ho 7 però quando devo leggere questi paroloni veramente sei un hub io odio call of duty non mi piace devo essere onesto boom che schifo e mi sono ammazzato da solo questo è difficile ecco questo sicuramente non lo vincerò oh e muori perlomeno ok due di loro sono morti e tre di loro sono morti sono morti ed ho vinto grande a new kind of evil il nuovo livello gentile cazzo questo è tachish scasso no cazzo devo rifarlo assolutamente allora penso che ora si sente la mia voce no non l'ho afferrato cazzo porca zoccolona oh ole no questo fa anche i salti cazzo ma dopo che schifo ma che schifo è headshot frenchy no bene mi sono lasciato e non l'ho afferrato bene no oh mi sono anche rotto una ma è possibile che se uno prende una caduta stotta si può addirittura rompere una gamba all'interno ma cazzo questo ho cacciato ce l'ho stata fuori ma siete fatti di carta pesta eh però vabbè vediamo però come dovrebbe essere il livello no vabbè dove avete dovuto afferrare no perché se sei morto non lo puoi continuare io tipo arrivavo con il pezzo della testa arrivava alla fine della gara e non mi davano la vittoria però io non lo ripiecevo perché diciamo che per me era vittoria ma se questo ha perso la testa oh ah fine ora sono integro eh oggi ho parlato madonna ah che schifo ma che schifezza assurda e dai boom ma lo si è strappato ad una gamba mamma mia hanno un braccio io ora dovrò afferrare no senza mani vale o sono morto vabbè diciamo che sono morto perché senza afferrare quella qua non puoi afferrare una cosa così senza le mani se ora non avessi le mani per esempio non l'avrei presa abbia perso no ho fatto il tuffo nel vuoto questo mi piace cazzo edda ma no si sono incastrati i piedi aspettate ora no vabbè cambiamo livello perché sennò faremo tutti i video su questo facciamo l'ultimo e poi finisce allora facciamo 5 sos quiz eddy che è il mio preferito appunto però cazzo il terrore di questo livello non so che cosa succederà fletcher la signora fletcher ok l'ho presa in culo lo rifacciamo andiamo qui e lo sapevo che le gambe si rompiva e cazzo ci sono incastrate le minicambe facciamo questo che sembra più conveniente Franci non sono morto o ma sono vivo Michael ma è più Michael ma è più Michael ma è più va bene ragazzi direi che il video di oggi mi dice qui scusate perché si è bloccato lo schermo vabbè non fa niente spero che il video di oggi vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi al canale commentate grazie perché siamo a 310 iscritti e non potevo chiederti meglio ebbene ragazzi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi ci ved Lenovo zie